Centro-destra unito per la candidatura a sindaco di Verbagna di Mirella Cristina. Finisce male dopo pochi minuti l'incontro tra Silvia Marchionini e la segreteria del PD oramai a un punto di rottura. A Castelletto Ticino il parterre elettorale rischia di essere affollato. Ad oggi sono cinque i potenziali aspiranti sindaco. Il sottopasso di via Mizzoccola a Domodossola sarà messo in sicurezza. Sarà posizionato un semaforo e fatto il marciapiede. A Verbagna il Festival del Giallo è stato il maggiordomo tra gli ospiti Bruno Morchio e Elisabetta Cametti. Nella cornici del Grand Hotel desilbore romè a Stresa serata promossa dalla Pafoni per ringraziare gli sponsor. Buonasera, in apertura di giornale lo avete sentito dai titoli ancora una volta la pagina elettorale, la pagina verbanese, perché oggi la coalizione di centrodestra in una conferenza stampa si è presentata all'appuntamento con tutto lo schieramento pronto, ovvero il centrodestra unito per rappresentare la candidatura a sindaco della città di Verbagna, di Mirella Cristina. Un segnale di compattezza e unità per sostenere la candidatura di Mirella Cristina, sindaco di Verbagna. Lo hanno dato i partiti del centrodestra, riuniti al chiostro con i vertici regionali. Il ministro e coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo, il deputato e presidente regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba, il presidente del gruppo della Lega alla Camera e coordinatore regionale della Lega Riccardo Molinari, il senatore Massimo Berutti, coordinatore regionale di Noi Moderati. Un bel segnale di come il governo passi dal territorio. La mia non è una candidatura dall'alto, ma viene da Verbagna, dagli amici di tutta la coalizione, ha detto emozionata Cristina. Ringrazio Zangrillo che ho tempestato di chiamate per aver creduto nella mia candidatura al femminile. Membri di Noi Moderati saranno nella lista di Forza Italia. Cristina ha lanciato anche una proposta, Verbagna deve diventare una città universitaria. Oggi qui ci sono segretari regionali che sono anche parlamentari, la garanzia che avrete riferimenti al governo per tutte le volte in cui dovrete risolvere un problema sul territorio, ha detto Zangrillo. Molinari ha puntato l'attenzione sull'unità. Non abbiamo fatto come qualcuno ha scritto una spartizione tra capoluoghi, ma per ogni territorio è stata scelta la persona che ci poteva meglio rappresentare. E ha rivolto una critica al centro-sinistra quando la coalizione mette in discussione la candidatura del sindaco uscente, sacrificandola sull'altare del campo largo da idea di cosa stia succedendo. Comba ha annunciato ufficialmente che il commissario provinciale di Fratelli d'Italia, dopo le dimissioni di Davide Titoli, sarà il capogruppo alla Camera Tommaso Foti. Per dimostrare quanto teniamo a Verbagna, ha detto Comba, abbiamo messo in campo gli uomini migliori. Siamo convinti, dopo un ragionamento ponderato, che Cristina sia la miglior candidata. Berutti ha sottolineato come Noi Moderati abbia sempre lavorato per l'unità del centro-destra. Ci sono tutte le condizioni per arrivare al risultato, con progettazione, visione e coesione. Questo dunque è quanto succede nel centro-destra e nel centro-sinistra. Sul fronte opposto c'è stato un incontro tra la segreteria del Partito Democratico e il sindaco uscente di Verbagna, Silvia Marchionini. Non è finita bene i dettagli nel servizio. Il confronto tra PD e sindaca Marchionini di ieri sera è durato pochi minuti, qualcuno 15, qualcuno 20, ma sicuro che a mettervi fine è stata la stessa prima cittadina uscente che ha messo alla porta del proprio ufficio il segretario cittadino Giacomo Molinari, la consigliera comunale e componente della segreteria Michela De Nicola e il candidato sindaco Riccardo Brezza. Ci siamo incontrati, spiega il segretario Giacomo Molinari, per trovare una composizione che valorizzasse tutte le parti, senza intenzione di cacciare nessuno. Marchionini però ha fatto saltare l'incontro solo dopo pochi minuti. Ribatte le dichiarazioni di Molinari Marino Barassi, persona di fiducia della sindaca che l'ha accompagnata all'incontro. Ero presente con la sindaca, il PD ha chiesto a Marchionini che si auto-escludesse dalla lista. Non c'erano possibilità di ricomposizione, le hanno offerto in cambio le politiche 2027. Dichiara Marchionini, ho troppo rispetto per il ruolo, il compito, l'impegno di questi anni lunghi per prestarmi a parole di polemica. Intendo concludere al meglio il mio mandato rappresentando gli interessi dei cittadini. La campagna elettorale inizia a maggio. E questa sera si riunisce l'Assemblea degli iscritti del Partito Democratico di Verbagna all'ordine del giorno, la Costituzione della coalizione per le prossime elezioni. E ancora da Verbagna è il caso della segretaria comunale. Nessun ripensamento sul licenziamento di Antonella Moglia dopo il caso oggetto anche di un servizio delle Iene. Oggi la giunta di Verbagna, in seguito alla delibera dell'autorità nazionale anticorruzione che chiedeva di ripensare e rivedere il provvedimento di revoca, ha confermato la propria decisione. Oggi la giunta comunale si legge in una nota di Palazzo di Città dopo aver analizzato i fatti e i documenti che avevano condotto alla revoca della dottoressa Moglia convinta del proprio corretto operato, conferma la revoca alle parole e alle accuse. La giunta risponde con i documenti nel rispetto della legalità e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Come in occasione della revoca non hanno partecipato al voto gli assessori Raffaele Allevi, Anna Bozzuto, Riccardo Brezza. Sulla questione nel pomeriggio ha inviato una nota anche la segretaria Moglia. Oggi con una deliberazione e un decreto connotati entrambi da gravi illegittimità. Non ultimo il procedimento avviato su un DPR del 98 abrogato nel 20 dice falsità e infondatezze di cui risponde anche chi non ne ha evitato l'adozione. Sono stata definitivamente revocata dall'incarico a neanche due mesi dalla scadenza naturale del mio incarico indissolubilmente legato a quello del sindaco Marchionini che non può più aspirare alla investitura di primo cittadino. Il dato temporale dimostra da sedici ancora l'accanimento personale nei miei confronti dovuto alla diffusione su scala nazionale delle notizie riguardanti la manipolazione di un concorso pubblico presso il Comune di cui lei è protagonista. E c'è ancora la politica anche nel prossimo servizio, anche se ci spostiamo. Andiamo a Castelletto Ticino, lo avete sentito dai titoli. Qui il parterre elettorale rischia davvero di essere affollato l'8 e la 9 giugno. Ma c'è ancora tempo per la presentazione delle liste. Vediamo. A Castelletto Ticino la politica è in fermento e la partitica si sta frammentando. Si era parlato della terza lista, poi quarta, in queste ultime ore spuntate alla quinta. Aveva fatto clamore la suddivisione in due gruppi del centro-sinistra con da un lato l'uscente Massimo Stilo e dall'altro l'ex sindaco Matteo Besozzi, già presidente della provincia di Novara. Ora il centro-destra si è diviso in tre. Infatti, dopo la candidatura annunciata da Michele Giovannetti per Fratelli d'Italia, poi quella di Giorgio Pierucci per la Lega, è arrivata la lista numero 5 con candidato Paolo Sibiglia, appartenente a Forza Italia, ma che ha promesso una civica di destra senza alcun simbolo. Si chiamerà, ironicamente, la quinta lista aria nuova. Ma andiamo con ordine. Il primo ad uscire allo scoperto è stato il sindaco uscente Stilo, sostenuto dal Partito Democratico, ma simultaneamente ha perso tre assessori, Marta Moalli, Sonia Fanchini e Dario Guenzi. Costoro hanno scelto di affancare il nuovo candidato Besozzi, così come l'ex capogruppo Claudio Agnemi. Il primo del centro-destra ad annunciare la candidatura è stato Michele Giovannetti, fratelli d'Italia, molto conosciuto nell'Aronese, per essere il presidente del comitato Aronalesa della Croce Rossa. Subito dopo è arrivato Giorgio Pierucci, esponente della Lega. Ultimamente è uscito il nome della politica locale Paolo Sibiglia, appartenente a Forza Italia, ex consigliere sia comunale che provinciale, molto conosciuto a Castelletto. Mancano 57 giorni al voto. Il tempo stringe. Entro un paio di settimane si devono presentare liste e candidati. E ora invece andiamo a Domodossola per parlarvi di una follata assemblea che si è svolta giovedì pomeriggio al Circolo Arci, al Badulerio. Un'assemblea allargata anche a chi risiede in regione Nosere. Si tratta dei quartieri all'ingresso sud della città. Si è parlato di progetti, di opere che saranno realizzate nei prossimi mesi, ma anche di viabilità e a questo proposito c'è una notizia importante per tutta la città, ovvero la messa in sicurezza del sottopasso ferroviario di via Mizzoccola e via Trabucchi. I residenti del quartiere Badulerio e di regione Nosere hanno risposto in massa all'invito dell'amministrazione comunale ieri pomeriggio a Domodossola. L'assemblea convocata presso il Circolo del Badulerio ha avuto infatti un'alta adesione in agenda e lavori al via prossimamente nelle due aree in ingresso sud della città. Entrambe le zone saranno interessate da opere pubbliche, a partire dal completamento della rete foniaria al Badulerio. I cantieri dovrebbero concludersi entro l'anno in corso in regione Nosere. Le opere saranno realizzate in due differenti step. Quest'anno una parte, nel 2025 il completamento. Si tratta in tutti i casi di opere attese richieste da tempo dai residenti. A sostenere economicamente la spesa sarà la società che a Domodossola gestisce, come in altri comuni della valle, il ciclo idrico al tavolo di giovedì pomeriggio. Erano infatti presenti con il sindaco Lucio Pizzi, l'assessore Franco Falciola, anche l'amministratore unico e il direttore di Idra Blu, Dario Bergamaschi e Claudio Stroppa. L'incontro è servito alla giunta Pizzi per annunciare anche un altro importante lavoro, questa volta a livello viario. La messa in sicurezza del sottopasso che dalla rotonda dell'Avis porta in centro città attraverso via Mizzoccola. Nei prossimi mesi si aprirà il cantiere che porterà alla realizzazione di un marciapiede lungo il lato destro della strada e il posizionamento di un impianto semaforico a chiamata che permetterà ai pedoni di attraversare in piena sicurezza il sottopassaggio. Ora invece parliamo di turismo perché ieri e oggi Stresa ha ospitato il terzo forum dedicato alle risorse umane promosso da Federal Berghie. Una particolarità di questo evento ha visto protagonisti di studenti che nei prossimi anni saranno protagonisti proprio nel gestire questo settore. Quello turistico è uno dei settori di punta del nostro territorio. Quali sono oggi le necessità degli alberghi, dei nostri grandi alberghi? Subito dopo la pandemia abbiamo avuto gravissime difficoltà nel reperire il personale. Devo dire che quest'anno le cose mi sembrano che stiano leggermente migliorando. Siamo qui per questo forum proprio per cercare di capire con i giovani come possiamo essere noi imprenditori più attrattivi nei loro confronti. La sensazione, terminato il forum dello scorso anno, che parlava sempre di questo problema, era che i ragazzi rimanevano molto delusi un po' dalla nostra situazione. Quando venivano a fare gli stage, che duravano i 15 giorni, diciamo, canonici, tornavano a scuola, i professori ci dicevano che rimanevano alquanto demotivati. Chiaramente dopo lo scorso anno abbiamo chiesto di fare questo forum per ribaltare un po' la situazione, cioè di inserire i ragazzi sul palco e gli imprenditori ad ascoltare e vedere quali sono le loro necessità. È chiaro che come abbiamo sentito in precedenza durante il forum anche questo grandissimo chef come Marco Sacco, le persone che si avvicinano naturalmente anche alla cucina sono un po' destabilizzate dal mondo televisivo dove tutto sembra molto semplice, molto facile mentre è un po' tanto organizzato a livello cinematografico e quindi poi la realtà non è la stessa. Detto questo, noi chiediamo anche, crediamo di aver capito un pochettino che anche il mondo scolastico deve preparare questi ragazzi quando entrano nelle nostre aziende che cos'è che si aspettano. Ad esempio per rimanere sempre sul tema della cucina non possono pensare di entrare l'indomani preparare loro il piatto finito. Ci sono delle difficoltà, gli ambienti non sono grandissimi, ci sono dei grandissimi rischi che quindi anche gli chef devono tener conto. Navigazione, Laghi e Trenitalia hanno siglato una importante partnership per incentivare e promuovere il turismo sostenibile. A ridosso dell'avvio della stagione turistica 2024, l'ente governativo aggiunge infatti un nuovo servizio per gli oltre 3 milioni di visitatori annui del proprio sito internet istituzionale, qui fa parte ovviamente anche la navigazione Lago Maggiore. Nel 2023 infatti i passeggeri sono stati 12 milioni complessivamente su tutti i laghi italiani. Dunque da oggi in home page su ciascuna pagina slash biglietti e orari della sito navigazione laghi.it sono infatti attivi i banner link verso Trenitalia per consentire ai visitatori di viaggiare in modo confortevole e sostenibile raggiungendo il lago con il treno mezzo green per eccellenza. L'obiettivo insomma è quello di incentivare e promuovere gli spostamenti con mezzi pubblici, contribuendo così a ridurre l'inquinamento atmosferico e a sgravare la rete viaria dal traffico, migliorando così si spera anche l'esperienza del viaggio. E chi invece va su strada può essere soggetto anche ad incidenti. Queste persone vengono soccorse da personale specializzato, le forze dell'ordine e chi si occupa di gestire il soccorso per la parte sanitaria. Bene, a Gravellonatoce l'altro giorno c'è stato un convegno mattutino, poi nel pomeriggio una dimostrazione pratica per capire come intervenire anche alla luce delle nuove norme. Sentiamo. Una giornata speciale, un workshop a Gravellona organizzato da Alley in collaborazione con l'amministrazione comunale dedicato alla polizia locale e a tutte le forze dell'ordine con un convegno in mattinata e poi con la simulazione di un omicidio stradale al pomeriggio un modo per affrontare e vedere sul campo i nuovi codici della riforma cartabia. Infatti è stato organizzato questo corso avanzato e ringrazio Alley, il comune di Gravellonatoce e il docente dottor Franco Morizio, esperto nei rilievi di incidenti stradali, che ha permesso alle polizie locali non solo del VCO, ma delle varie province del Piemonte, della Lombardia e anche della Liguria, che sono presenti oggi in questo convegno e per dar modo di poter, oltre alle nozioni teoriche, avere un supporto pratico sul territorio nella rilevazione di questi incidenti. Soprattutto perché le forze di polizia, locale in modo particolare, ma di tutte le forze di polizia hanno necessità, spesso e volentieri, di associare alle nozioni teoriche anche la parte pratica e per essere anche al passo coi tempi, con le nuove norme che ogni giorno purtroppo vediamo e a cui dobbiamo attenerci nella rilevazione soprattutto degli incidenti stradali. Cambiamo decisamente argomento perché sono iniziate nei giorni scorsi a Omenia le celebrazioni per ricordare i cento anni di attività della sezione Omenia-Cusio degli Alpini, un concerto degli studenti ad indirizzo musicale dell'Iceo Gobetti, ha aperto queste celebrazioni, per la verità in questo programma sono coinvolti anche gli studenti del Gobetti e degli altri indirizzi, ma partiamo dal concerto. Un grande evento al quale non è estraneo ovviamente il Liceo Gobetti, sempre più inserito nella realtà locale, nella realtà del territorio, non più una scuola come si pensava una volta, diciamo chiusa un po' in se stessa. Anche questo è un evento per voi, un evento celebrativo, Presidente? Esatto, come abbiamo detto il Liceo Gobetti è una scuola ben radicata nel territorio ed è ormai un punto di riferimento consolidato nel panorama culturale della città. Quindi noi abbiamo accolto con entusiasmo e anche con grande impegno e serietà questa proposta che gli alpini ci hanno fatto, coinvolgendo tutti e tre gli indirizzi della nostra scuola. Il Liceo Scientifico che realizzerà la parte delle interviste per il centenario agli alpini, il Liceo Artistico, qui vedete alle mie spalle e nel foyer le opere che hanno realizzato, e il Liceo Musicale. La grande musica di Ennio Morricone, brani, canzoni, tanti dei grandi film che hanno fatto storia, fanno epoche, insieme ai canti di montagna alla tradizione alpina, è con un abbinamento davvero straordinario. E questo concerto è stata anche l'occasione per rappresentare il programma di questo centenario, Presidente. Certamente. La collaborazione con il Liceo, come ha già ricordato la Preside, è stata magnifica su tre fronti, come ha già ricordato lei, principalmente questo della musica. E questo, un secondo concerto, si ripeterà proprio il venerdì 20 settembre, quando ci sarà l'inizio della tre giorni del raduno effettivo, e quella sarà tutta dedicata a musica alpina. Nel frattempo, prima di quella data, abbiamo numerose iniziative dei vari gruppi locali. Cito solo velocemente che ci sarà un altro concerto della scuola di canto, della scuola media al Collegio Don Bosco a Borgomanero. Settimana prossima avremo una riunione dei centri studi di tutte le sezioni del Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta a Borgomanero, per discutere soprattutto proprio dall'argomento di coinvolgimento dei giovani nella nostra associazione, che è un argomento estremamente attuale. E questo giustifica anche tutti questi collegamenti che abbiamo cercato quest'anno di ripercuotere sulle scuole. Poi avremo un'altra cosa molto interessante, sabato 13 e domenica 14, a Sovazza, avremo la possibilità di ospitare le reliquie del beato Don Carlo Gnocchi, un cappellano alpino già proclamato beato, quindi anche quello sarà un momento di intensa raccoglimento per noi. E a proposito di eventi, vi dico che dalla 19 al 21 aprile a Verbania torna l'appuntamento con il Festival Noir, è stato il maggiordomo. Siamo riusciti con l'amministrazione, con la biblioteca, a riproporre una nuova edizione, la terza, nella quale ci saranno dei nomi davvero di altissimo livello. Ci stiamone qualcuno? Sì, abbiamo Bruno Morchio, che è il neo vincitore del premio Scerbanenco, Scerbanenco 2023, e quindi portiamo avanti la strada già seguita l'anno scorso, quando sono riuscito a far venire il premio Scerbanenco 2022 Enrico Pandiani, e l'anno prima addirittura la figlia di Scerbanenco. Vi ricorderete, insomma. Poi abbiamo Elisabetta Cametti, il sabato, che è un noto volto televisivo sulla RAI e su Mediaset, si occupa di criminologia, di crimini, fa delle analisi molto profonde, ed è un'autrice molto seguita. E ho scoperto che qui in zona, con Davide Longo, che c'è anche lui il sabato, anche lei è una delle autrici molto, molto, molto richieste e molto lette. Il venerdì abbiamo anche Bruno Vallepiano e Giorgio Maimone. Bruno Vallepiano è un realizzatore di festival, come me, nella zona di Cuneo, con Giallo Ormea, che è molto famoso, ma soprattutto con un concorso letterario tra i più importanti italiani, che è la Quercia del Mir. E la domenica chiudiamo con Il Botto, con Alessandro Robecchi, noto autore degli sketch di Crozza in televisione, ma è anche un personaggio che ha fatto la storia del giornalismo, come direttore di Radio Popolare, lavorando all'unità, a cuore, con la rubrica Piovono Pietra. Insomma, un personaggio molto importante, finito anche in televisione con la serie di Montere e Monterossi. E poi ci saremo in conclusione io, relativamente, ma soprattutto Enrico Fovanna, che è un autore molto, molto dolce, pur scrivendo noir, e che è originario di queste zone di Premosello. Quindi, ovviamente, gestirà le presentazioni Emanuele Baldi, che è un'esperta del settore del genere, e speriamo, insomma, di poter consegnare alla città di Verbania, ai lettori, a voi, insomma, a tutti, un'altra edizione piacevole, divertente, pur toccando temi molto complicati, come quelli del crimine. Uno sguardo alla nostra programmazione, come ogni venerdì alle 20.30, Il Sasso nello Stagno, che torna in replica sabato alle 18, domenica alle 14. Le anticipazioni. Nella puntata di questa settimana del Sasso nello Stagno, ci occuperemo di una drammatica emergenza di natura sociosanitaria, quella che interessa gli ammalati di Alzheimer e i loro familiari. Ne parliamo perché la situazione, che già è difficile per la gravità di questa patologia, si è ulteriormente aggravata per l'entrata in vigore nel dicembre scorso, anche nella nostra ASL, della riforma dei nuclei Alzheimer temporanei, che la Regione Piemonte aveva approvato nel marzo del 2022. Parliamo di una situazione davvero drammatica, che non interessa poche persone, credetemi. A livello mondiale parliamo di demenza in generale, l'Alzheimer è una delle forme forse più note, più conclamate della demenza. Parliamo di 55 milioni di persone. In Italia un milione e duecentomila persone, in Piemonte quasi 90 mila, e facendo le debite proporzioni per il VCO parliamo di 3.000-3.500 persone, il che vuol dire anche 3.000-3.500 famiglie. Ecco, parleremo di questo tema, di questa emergenza e anche delle conseguenze di questa novità regionale, con il nostro ospite, che sarà il dottor Rino Bisca, che è il direttore della casa di riposo l'Agostina di Omenia, che ospita uno dei tre centri Alzheimer della nostra provincia, ed è anche il direttore della RSA di Vogonia. Appuntamento a fra poco, qui al Sasso, nello Stagno. Ora lo sport è in primo piano la serata, promossa dalla Paffoni, con i suoi sponsor. Sentiamo Daniele Piova. Una serata speciale, in una location meravigliosa, per dire una parola. Grazie. Sì, hai già detto tutto tu, hai riassunto, ma credo che il grazie, che è una parola che dovremmo riscoprire tutti nella nostra quotidianità, sia proprio la parola da usare questa sera. Serata dedicata ai nostri sponsor, cioè a quelle aziende, a quelle attività eccellenti del nostro territorio, che ci permettono di sviluppare lo spettacolo chiamato Fulgor Paffoni Basket, di sviluppare un gioco che attrae famiglie, ai bambini, che riempie il palazzetto, la nostra nuova casa, e quindi davvero il grazie, la gratitudine, sono la parola, l'atteggiamento e la sensibilità che questa sera si era chiusa qui, all'hotel Borromeo, dove siamo ospiti, per ringraziare tutti coloro che credono in quello che noi facciamo, dal settore giovanile fino alla prima squadra. Con obiettivi, missioni che guardano al futuro. Sì, gli obiettivi sportivi sono sempre quelli, cercare di vincere, sapendo che nello sport vince uno solo, ma noi ci impegniamo di più, ogni anno cercando di portare questa vittoria che la nostra società credo meriti per lo sforzo storico, probabilmente lo diranno anche le altre società, ma ciascuno di noi che lavora per la propria società sa quanto è l'ambizione per portare una vittoria che rappresenterebbe anche la giusta conclusione di un lavoro faticoso che ha portato al palazzetto, che ha portato alla crescita del settore giovanile, che ha portato anche tante persone a impegnarsi, compresi gli imprenditori che questa sera ci hanno accompagnato in questa serata. Prima dei saluti, uno sguardo alla nostra programmazione, alle 21.30 torna Bike Trail Cafè con Luigi Ciccarone, dedicato al mondo del ciclismo e del cicloturismo nell'Alto Piemonte, undicesima puntata, protagonista Francesca Barale, un viaggio nella storia e nella mente di una professionista che discende da due generazioni di ciclisti. La trasmissione replica anche sabato alle 9 e alle 13. Grazie e buona serata.